Perché sono qui? Per essere presente come tutti gli altri fans che stanno tutti qui. Noi amiamo Pino Daniele, perché lui è stato l'artista che ha sentito gli umori e le sensazioni del popolo napoletano e l'ha unita in una canzone, l'ha musicata e l'ha diffusa in tutto il mondo. La canzone che meglio lo ricorda per lei? Facile. Scarafone è la cosa che ha colpito un po' tutto. Scarafone è una parola che si usa a Napoli, è una persona un pochino non bella. Però Scarafone è sempre bella a mamma sua. Quando sono nato, quando ho 14 anni, il primo concerto mio è stato di Pino Daniele. L'ultima volta che lo ha visto in concerto? A Roma il 13 dicembre. Ho iniziato con me la metà. Una grande riunione. Esattamente. Due anni fa lo vedi pure a Palaparte a Napoli. E quindi lo seguo da sempre. Ci sono cresciuto. Un suo ricordo personale legato in musica a Pino Daniele? Ho tanti ricordi. Gli album più belli, i primi album, nella metà, By Mo' e tutto quanto. Suo figlio? No, sono il nipote. Una generazione che però evidentemente è trasversale, che lega Pino Daniele. Ho stima per il chitarrista, essendo musicista anch'io, e stima per i testi, per l'artista comunque. Sono riuscito a farmelo trasmettere dai miei zii che hanno origini partenopee e quindi mi dispiace che sia successo, perché aveva ancora tanto da fare, avevamo ancora tanto da sentire tutti noi. Da quanti anni ascoltava Pino Daniele? Beh, da quando ero un bambino, quindi insomma, diciamo quasi una quarantina d'anni. C'è un ricordo personale che la lega ad una canzone di Pino Daniele? Qualcosa che ricorda di questo artista trasversale internazionale? Beh, vabbè, un ricordo personale è Napolè. Una canzone che mi ha sempre comunque toccato il cuore. Ho tanti ricordi legati comunque a lui. C'è un ricordo particolare della sua vita che la lega a Pino Daniele e alla musica di Pino Daniele? Eh beh, mi ha accompagnato in tutte le esperienze di quell'epoca, ovviamente, e negli anni che sono seguiti. Oggi non poteva mancare? Beh, ho fatto in modo di esserci, sì. Da Caserta per vedere, anzi, per dare l'ultimo saluto a Pino, perché è stato per noi, come dire, la Napoleternità, ok? Quindi ci tenevamo, siamo partiti stanotte per venire, quando prima, essere i primi per dare l'ultimo saluto al nostro grande Pino. Tutta la famiglia? Famiglia, amici? La moglie, le mie ragazze sono con me, perché ci tenevano anche loro a essere presenti. La gente che ama Napoli, c'è il dolore al cuore, io ho il mal del cuore, ho il male del cuore, signor. E questo è Napoli, come mi fa la ricetta? Come mi fa? Che tutta ha un cartone, che ha le parole, le carte, che vanno sotto i muri e i marci per le ricette, che fanno da ritratto a queste mancature di carte. Lei è di Napoli? Io sono anche di Napoli. Viva Roma, però. Viva Roma, ma c'è un dolore in Napoli come tutti quanti artisti. Viva Napoli. Sto creatore tenendo la faccia di l'angelo, come chi l'ha. Sono morti tutti e due con il loro cuore, guardate. Massimo Truisi, lei dice? Eh sì, Massimo Truisi. È nato grande, sono trovato, ma ho la chiacchina, ci stanno le facce brutte qua. Ci stanno tutte le facce belle.